Sì, sono appena entrata alla cartoleria! Madonna, ho capito che vuole il colore, tua figlia, che poi è anche la mia! Sono arrivata alla cartoleria, lo vuoi capire? Sto davanti al signore, sono entrato, chiudo il telefono! Madonna santo, buongiorno! Buongiorno, dica pure! Senta, siccome mia figlia deve fare un disegno particolare per la scuola maestra, avete i colori? Come no, sono tantissimi! Fanno bene i 18? 18, 36, 37, e basta! Di nuovo a chiamare! Pronto? Gli ho presi ora il colore! Ma insomma, ma perché chiami sempre tu e tua figlia? Dici che li sono faiati da crudo, voli forza! Aspetta, perché ora vengo! Ehi, giovane!